Buongiorno a tutte e tutti, bentrovati, anche se non è facile parlare in una sala vuota, come vi avranno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, mi asserrò comunque dal correre tra le poltrone come Fiorello Sanremo e dico subito invece che stiamo organizzando un seminario in diretta a conclusione del corso dove potremo dialogare un webinar, come si dice oggi, di cui appunto vi darà notizia poi la segreteria del corso. Dunque, Dante e la questione della lingua nel Cinquecento. Dante è il padre maestro della nostra lingua, ci ha ricordato il professor Beccaria in modo magistrale nella lezione di apertura del corso qualche settimana fa, senza dubbio. Non lo era ancora del tutto e fino in fondo, come poi lo sarebbe diventato dall'Ottocento in avanti nel Cinquecento, anche se la lingua e l'opera di Dante percorrono l'insieme dei testi e dei contesti che va sotto il nome di questione della lingua nel Cinquecento. Dante e la lingua delle sue opere sono al centro di quelli che Giancarlo Mazzacurati ha definito conflitti di culture nel contesto storico del sistema delle corti italiane del Rinascimento. A favore o contro, i trattati e i dialoghi che riguardano la modellizzazione della lingua letteraria, il confronto tra lingua letteraria e lingua della conversazione civile, il binomio tra lingua viva e lingua morta nel Cinquecento, chiamano in causa Dante e la sua opera. Come ricorderete, nei primi decenni del Cinquecento Dante compare come personaggio e viene sgridato o meglio sgannato e costretto a emendarsi nel discorso o dialogo intorno alla nostra lingua. Un'operetta attribuita a Machiavelli, forse un po' sopravvalutata, oggetto di lunghe discussioni filologiche fino a pochi anni or sono, ma sicuramente importante nel contesto delle prime discussioni linguistiche cinquecentesche, alla vigilia della pubblicazione delle prose della volgarlingua. La datazione è ancora discussa, ma si propende per il decennio che sta tra gli anni 15 e gli anni 25 del Cinquecento. Alla fine delle slide ho poi inserito una nota bibliografica con le principali edizioni delle opere di cui parleremo. Leggiamo dalle pagine finali dell'opera e Machiavelli stesso che si rivolge a Dante e appunto lo sgrida, ma più che sgridare Dante dice sarebbe più opportuno sgridare Firenze e la lingua che a Firenze si parla. Dante mio, voglio che tu ti emendi e tu consideri meglio il parlare fiorentino e la tua opera e vedrai che se alcuno sarà da vergognare, sarà piuttosto Firenze che tu. Proprio perché a Firenze erano d'uso voci, espressioni colloquiali anche di livello di registro basso, triviale, come appunto gli esempi che vedete nella slide. E non avendo fuggito questo che disonora tutta l'opera tua, tu non puoi aver fuggito infiniti vocaboli patri che non s'usano altrove che in quella. Perché, dice Machiavelli, l'arte non può mai in tutto repugnare alla natura. Si instaura così già dall'inizio del secolo questo binomio tra natura e arte, lingua dell'uso parlato, colloquiale e lingua scritta letteraria, che sarà un filo rosso all'interno delle discussioni linguistiche del Cinquecento e che ha proprio Dante e in particolare la lingua della commedia nel suo centro. Oltre di questo io voglio che tu consideri come le lingue non possono essere semplici, ma conviene che siano misse con le altre lingue. Ma quella lingua si chiama ad una patria, sentite l'aria dei discorsi sulla lingua di Manzoni, quella lingua si chiama ad una patria, la quale convertisce i vocaboli che ella ha accattati da altri nell'uso suo. Ed è sì potente che i vocaboli accattati non la disordinano, ma ella disordina loro, perché quello che ella reca da altri lo tira a sé in modo che par suo. Allora il modello di lingua che viene fuori dal livello dell'uso, dentro il quale appunto si agita questa dialettica tra arte e natura con l'opera di Dante al centro, è una lingua, vedete, mista, che non ricusa vocaboli stranieri o nuovi, ma quello che la reca da altri lo tira a sé in modo che par suo, cioè fa proprio attraverso l'uso anche gli elementi che arrivano dall'esserno, gli elementi all'otri rispetto a una evoluzione completamente interna alla lingua. E l'esempio che fa Machiavelli è molto bello, da grande storico da par suo, ed è quello delle legioni romane che pur se durante appunto i secoli dell'impero acquisirono elementi provenienti da tante diverse popolazioni, pur tuttavia li vestivano con la livrea del soldato romano e dunque questi soldati diventavano romani a tutti gli effetti. E tu che hai messo, leggo da qua, vedete, e tu che hai messo, e tu che hai messo nei tuoi scritti 20 legioni di vocaboli fiorentini e usili casi, tempi e i modi e le desinenze fiorentine. Vuoi che i vocaboli adventizi facciano mutare la lingua? La lingua di Dante è tutta e completamente fiorentina, anche se ci sono vocaboli che hanno origini in lingue straniere, in dialetti, sono neologismi inventati da Dante, eccetera. Quello che inganna molti circa i vocaboli comuni è che tu, tu e gli altri che hanno scritto, essendo stati celebrati e letti in vari luoghi, molti vocaboli nostri sono stati imparati da molti forestieri e osservati da loro, tal che di propri nostri sono diventati comuni. Allora, cos'è successo? Dopo che Dante, Petrarca e Boccaccio hanno scritto le loro opere immortali, queste opere hanno cominciato a circolare nella penisola e la loro lingua è diventata patrimonio comune degli scrittori. Dunque, il fatto che nella commedia si trovino così tanti vocaboli comuni, diciamo, è proprio frutto di questa prima circolazione, prima grossa fortuna delle tre corone. Dunque, c'è già una diffusione in atto della lingua di Dante, di Petrarca e di Boccaccio e l'opera lo attesta molto bene. Allora, ricapitolando, il binomio arte-natura, il concetto di lingua mista, cioè lingua nata da apporti continui sia di altre lingue sia dei parlanti, la sostanziale unità di questa lingua, anche se nasce da apporti diversi, e la fortuna nazionale delle opere di Dante, insieme a Petrarca e Boccaccio. Dunque, Dante viene sgridato, ma vedete che in questa breve operetta ci sono già le fila di alcune delle questioni fondamentali che sono in ballo nel corso del Cinquecento e all'interno delle quali proprio il ruolo di Dante e della sua opera, in particolare della commedia, è fondamentale. Anche in funzione, l'ultimo punto che abbiamo toccato adesso, anche in funzione di unificazione e standardizzazione della lingua scritta letteraria. Su questo punto, in particolare, insistono sicuramente le prose della volgarlingua di Pietro Bembo, che costituiscono il secondo punto del nostro discorso e anche la parte centrale, l'opera di lingua più importante del Cinquecento, più fortunata e forse l'opera di lingua più importante in assoluto nella storia della lingua italiana. Dunque, come sapete, le prose sono scritte in forma di dialogo che si immagina avvenuto a Venezia nel 1502, nel corso di tre giornate, e furono stampate per la prima volta nel 1525, sempre a Venezia, dall'editore Giovanni Taccuino. Come ha scritto Mirko Tavoni, le prose, cito, prescrivono il distacco della scrittura letteraria dalle scritture pratiche e dalla lingua della conversazione civile. Sanciscono la separatezza della letteratura, la sua sottrazione al consumo effimero, la sua destinazione alla posterità. Sul piano grammaticale danno certezze a cui si potesse ancorare la domanda di normatività che assillava il ceto in espansione degli scriventi non toscani in cerca di una lingua unica. Allora, le prose propugnano, promuovono un modello di lingua letteraria che si distacchi fortemente dalle scritture pratiche e dalla lingua della conversazione civile in modo da garantire la destinazione alla posterità di questi scritti. e nello stesso tempo, da un altro punto di vista, quello dell'industria editoriale nascente in Italia, assicurano di ancorare a certezze la domanda di normatività che appunto assillava il ceto in espansione degli scriventi non toscani. A questo riguardo, sempre Giancarlo Mazzacurati, ha potuto parlare di filologia del rigetto. È un'etichetta che a me piace molto perché sintetizza l'immagine di un bembo che compie un gesto fondamentale, quello di assolutizzare i modelli letterari prescelti, sradicandoli dai loro rispettivi contesti storici e proponendoli a un'imitazione acronica, paradigmatica e ripetibile dai moderni. Secondo Mazzacurati, proprio la negazione delle origini municipali, della lingua letteraria e la cesura che fonda la modernità. Vediamo allora come si inseriscono la figura e l'opera di Dante in questo contesto. Suddividiamo questa presentazione in tre parti distinte. La prima parte è sicuramente una pass destruence. Forse i brani più noti delle proseri a riguardo di Dante sono proprio quelli di aperta polemica, di requisitoria nei confronti della commedia. Qui vedete, nel libro secondo, al capitolo 5, Dante viene accusato di aver usato appunto delle voci non acconce, delle voci vili o dure o dispettose, quando si poteva benissimo, secondo Bembo, tralasciare quegli argomenti che richiedevano quelle parole così poco liriche, così poco auliche. Ma seppure ciò avviene, dice Bembo, cioè di aver bisogno di usare queste parole, dico che è da tacere quel tanto che esporre non si può acconciamente, piuttosto che esponendolo, macchiarne l'altra scrittura, piuttosto meglio evitare certi argomenti. E pensate il peso che ha avuto questa dichiarazione sulla nostra poesia lirica. Di cosa si parla nella tradizione della poesia lirica petrarchesca, petrarcheggiante, almeno fino a Leopardi? Ecco, si parla di capelli d'oro, vaghe, aure, ma tutto quello che è concreto, quotidiano e perciò materiale, triviale anche nella sua quotidianità rimane fuori dalla nostra tradizione lirica. Dunque, meglio evitare di quello che non si può esporre acconciamente piuttosto che, sponendolo, macchiarne l'altra scrittura. Massimamente dove la necessità non istringa e non sforzi lo scrittore, dalla quale necessità i poeti sopra gli altri sono lontani. Forse, appunto, nelle scritture pratiche c'è la necessità di trattare anche argomenti e temi di natura quotidiana e perciò basta, popolare. Ma i poeti, che bisogno ne hanno? Vedete la costruzione proprio di un genere che un po' per volta si stacca, si discosta, si distoglie rispetto alla quotidiana materialità delle cose e anche della lingua. E il vostro Dante, Giuliano, quando volle far comparazione degli scabbiosi, meglio avrebbe fatto ad aver del tutto quelle comparazioni taciute che a scriverle nella maniera che gli fece. Qui sono riportati alcuni passi di Inferno 29 resi molto noti appunto dalla commedia, così come il verso Biscazza effonde la sua facultate tratto da Inferno 1144. Non ci fermiamo, poi se vorrete appunto nel corso del seminario conclusivo potremo tornare sull'interpretazione di questi passi. Quello che proprio a Bembo non va giù è l'introduzione di queste parole basse, volgari, triviali, quando non ce n'era una stretta necessità, come appunto non ce n'è mai in un testo poetico. Questi appunti contro la lingua della commedia che si trovano al libro secondo capitolo 5 sono completati dalla seconda requisitoria, forse questo è uno dei passi sicuramente più celebri delle prose, che appunto compare alla commedia a un bello e spazioso campo di grano che si ha tutto da vene e di logli ed erbe sterili e dannose mescolato o ad alcuna non potata vita al suo tempo la quale si vede essere poscia, lassate, sì di foglie, di pampine, di vittici ripiena che se ne offendono le belle uve. Dante ha voluto mescolare la purezza della lingua lirica che pure aveva coltivato in gioventù, aveva ereditato dalla tradizione toscana e provenzale, ha voluto mescolare questa purezza, questa eleganza, raffinatezza con, dice Bembo, parole latine, straniere, vecchie o del tutto tralasciate, non usate o rozze, oppure immonde o brutte o anche durissime. Allo incontro le pure gentile, alcuna volta mutando e guastando e talora senza alcuna scelta o regola, da sé formandone e fingendone. Questo è l'operato di Dante, è diciamo una descrizione completa, direi, del repertorio lessicale della commedia. Dunque, la prima cosa da dire sulle prose è sicuramente la vispolemica che anima Bembo nei confronti della commedia di Dante, perché appunto per la gratuità di queste occorrenze così basse e triviali che si potevano sicuramente evitare. Ma a fronte di questo primo atteggiamento, diciamo, del testo nei confronti di Dante, dobbiamo notare almeno altri due aspetti. Allora, punto secondo. Dante e la sua opera sono citatissimi nelle prove. Non ho fatto a tempo a contare numericamente proprio le occorrenze, ma sono tantissime, secondo e forse solo a quelle di Petrarca. Perché? Questo perché l'esigenza di un modello, come quello che Bembo voleva costruire nelle prose, richiede la stabilità di un sistema linguistico che funga da sicuro referente. Allora, un sistema linguistico stabile che funga da sicuro referente. E per costruire questo sistema di riferimento, Bembo ha bisogno delle voci più autorevoli che l'hanno preceduto. E dunque attinge a piene mani, non solo da Petrarca, ma anche da Boccaccio e anche da Dante. Costruisce un sistema di riferimento in modo da fondare un modello di lingua stabile. E dunque è possibile a Bembo, nel corso del capitolo 5 del primo libro, per esempio, includere Dante, Concino, Petrarca e Boccaccio nella schiera di coloro che han dato autorità e dignità al volgare. È sempre lo stesso Dante, quello dell'olio, delle spine, ma eccolo qui, diciamo, riabilitato in questa citazione. E questo medesimo, cioè quello che fece Cicerone per la lingua latina, il baragrafo precedente parla appunto di Cicerone, e Cicerone è la massima autorità, infatto, di lingua latina per la prosa, come appunto Virgilio per la poesia. Ma qui a Bembo non sta ancora distinguendo. Allora, quello che fece Cicerone per la lingua latina, cioè di coltivarla attraverso le sue opere, così nella nostra volgare, Messercino e Dante, il Petrarca e il Boccaccio e degli altri di lontano prevedendo, e con essa molte cose e nel verso e nella prosa componendo, vedete, sono citati poeti e prosatori, le hanno tanta autorità acquistata e dignità quanta ad essi è bastato per divenire famosi e illussi, non quanta per avventura si può, insomma, alleidare e accrescere scrivendo. Il modello delle prose non vuole essere un modello definitivo, ma un modello perfettibile, sulla base del confronto, del parallelo con la vita dell'essere umano che conosce una progressiva maturazione. Così anche Bembo, in più punti delle prose, dice che non si è arrivati alla perfezione della lingua volgare con Petrarca e Boccaccio, ma la lingua volgare si va via via sempre più rifinendo e migliorando, perfezionando. Così, ecco, Dante insieme a Cino, Petrarca e Boccaccio, quali, come dice appunto, quali scrittori che hanno dato alla lingua volgare autorità e dignità. Ma poi, più avanti, a Bembo non è meno agevole apprezzare Dante per la sua capacità di dirozzare l'antico toscano di Guittone, di Farinata degli Uberti e perfino di Cavalcanti, seguendo l'uso vivo della lingua. Vedete, era il nostro parlare negli antichi tempi, rozzo e grosso e materiale. Ci sono degli esempi di, sarebbe interessantissimo fermarci, ma non possiamo. diciamo, dunque, la onda Dante è nella vita nuova, nel convito, nelle canzoni, ma anche nella commedia sua. Vedete, non c'è una censura coerente della commedia. Qui la commedia è presa come esempio di testo che è servito a dirozzare la prima lingua volgare della poesia. Dante, in queste opere, molto si vede mutato e differente da quelli primieri che io dico e tra queste sue composizioni più si vede lontano da loro in quelle alle quali egli pose mano più attempato che nelle altre. Il che argomento è che, secondo il mutamento della lingua, si mutava egli, a fine di poter piacere alle genti di quella stagione. Dante segue il progressivo mutare, la progressiva evoluzione della lingua volgare e anche della lingua volgare della letteratura e della scrittura letteraria. In più, all'inizio del secondo libro, Dante è definito magnifico e grande poeta, anzi, grande e magnifico poeta, il quale di grandissimo spazio tutti addietro gli si lasciò. Lo stesso secondo libro che contiene le requisitorie che abbiamo letto poc'anzi. Ricordo ancora che Dante è citato e elogiato quale ritrovator, lo vedete qui alla penultima riga, ritrovator delle rime cosiddette a terzetti o, e questa sembra una definizione di mente di Bembo, a catena. Cioè, Dante, nella storia della poesia e della metrica italiana, sarebbe stato il primo a usare le terze rime, le terzine incatenate come schema metrico. Dunque, Dante è citato ed elogiato più volte per il grande ruolo che ha avuto nello sviluppo, nell'evoluzione della lingua italiana in generale, della lingua letteraria più in particolare e ancora più nel particolare della lingua poetica. Ma sono poi molti gli esempi che nel terzo libro sono tratti dalle opere di Dante e soprattutto dalla commedia, alcuni anche dalle rime. Questo perché? Proprio perché, come vi dicevo, la lingua di Dante è convocata assieme a quella di Petrarca e Boccaccio a sostenere la fondazione della prima grammatica dell'italiano letterario che sono appunto le prose. Vediamo rapidamente alcuni esempi di tratti dal terzo libro delle prose che rappresenta appunto questa prima grammatica della lingua poetica. Sono esempi in cui appunto accanto a Petrarca e Boccaccio è citato anche Dante e nella maggior parte dei casi il Dante comico, il Dante della commedia. Per esempio, l'uso di forme nominativali come grando, turbo, fondo, l'uso oscillante dell'apocope, l'uso di parole che termina con tre vocali come primaio o cellatoio, i plurali in ora, il genitivo di materia con preposizione articolata sull'esempio di il vello dell'oro anziché il vello d'oro, l'enclisi pronominale, sincopi e forme scorciate, l'epitesi di e come in fu e per fu, l'infinito redire per tornare, il gerundio preposizionale del tipo in andando e potremmo continuare. Ci sono tanti esempi che Bembo accumula per in modo disorganico comporre questa grammatica della lingua poetica che vedono anche Dante protagonista. Dunque, accanto alla prima parte che abbiamo presentato, la parte d'Estrunas, diciamo, questa seconda parte ci fa vedere invece un Dante pienamente organico al progetto delle prose di Bembo e anzi centrale nella tentativo riuscitissimo di costruire una prima grammatica poetica, una prima grammatica di riferimento per chi vuole scrivere poesia in volgare. Terzo punto, forse il più importante che riguarda le prose. L'intero impianto concettuale dell'opera condivide la prospettiva del de vulgari eloquenzia e questo che io sappia è stato Mirko Tavoni a metterlo in luce per primo in modo completo. Bembo conosceva il de vulgari eloquenzia, lo sapete, perché Gian Giorgio Trissino in arrivo a Roma intorno agli anni dieci lì l'aveva fatto leggere e Bembo aveva avuto modo di farsene fare una copia. Dunque Bembo l'aveva letto e lo conosceva bene il de vulgari. Il proemio delle prose richiama riecheggia in più punti passi del de vulgari e in particolare stabilisce una strettissima sintonia con il de vulgari dal punto di vista di un elemento fondamentale per la dimensione dell'evoluzione della lingua che è appunto la variazione. Una lingua intanto è lingua in quanto varia. La dimensione della variazione è costitutiva e fondamentale della di una lingua davvero usata. Vi ho riportato nelle slide alcuni passi tratti proprio dall'inizio delle prose dove che adesso leggiamo però rapidamente. Allora questo è proprio l'incipit dell'opera. se la natura Monsignor Messer Giulio l'opera è dedicata a Giulio de' Medici è nella finzione della stesura che Bembo vuole avvenuta entro il 1515 Giulio de' Medici è ancora cardinale soltanto nel 1523 diventerà papa con il nome di Clemente VII ma dato che Bembo voleva avere il primato nella scrittura della prima grammatica in volgare anticipa propone questa finzione per poter anticipare la stesura delle prose al 1515 cioè l'anno precedente al 1516 nel quale uscirono le regole della volgarlingua di Francesco Fortunio che sono a tutti gli effetti la prima grammatica organica della lingua volgaria dunque se la natura Monsignor Mester Giulio delle mondane cose producitrice e dei suoi doni sopra esse dispensatrice siccome la voce agli uomini è a disposizione a parlare data così ancora data loro avesse necessità di parlare di una maniera medesima in tutti è la senza dubbio di molta fatica scematici avrebbe alleviati che ci sopra sta allora avesse voluto la natura fare sì che parlassimo tutti nella stessa lingua come vedete non c'è un orizzonte providenziale è di matrice biblica come nel De Vulgari quando l'origine della differenziazione linguistica è spiegata attraverso l'episodio della Torre di Babele l'orizzonte delle prose è un orizzonte completamente laico prende laico è direi di matrice aristotelica prende coscienza dichiara quello che è cioè che parliamo tutti lingue diverse e questo è molto faticoso non solo perché ci tocca appunto imparare a parlare tante lingue diverse per poterci capire con i popoli che abitano al di fuori della nostra patria ma anche perché ci tocca anche imparare a scrivere in lingue diverse allora il problema è appunto vedete subito centrato sulla scrittura né solamente questa fatica che io dico del parlare ma un'altra ancora via di questa maggiore sarebbe da noi lontana se più che una lingua non fosse a tutti gli uomini e cioè quella delle scritture la quale perciò che a più largo e più durevole fine si piglia per noi è di mestiero che da noi si faccia a Zandio più perfettamente con ciascosa cosa che ciascun che scrive d'essere letto desidera dalle genti non pur che vivono ma ancor che vivranno dove il parlare da picciola loro parte solo per il spazio brevissimo si riceve ma vedete subito le prose impostano la dicotomia di fondo tra lingua parlata e lingua scritta la lingua parlata è destinata a durare poco nel tempo ed essere ascoltata da un ristretto numero di persone la lingua scritta invece ambisce a una sopravvivenza di un tempo molto più molto superiore e anche a potersi rivolgere a molte più persone dunque è molto importante capire quale lingua bisogna adottare perché davvero la lingua che noi scriviamo possa essere letta da molte persone attraverso lo spazio e il tempo dunque ecco vedete c'è proprio l'indicazione della variazione ora che qualunque sia di ciò la cagione qui vedete Bembo non si pronuncia sulla cagione essere vediamo così diverso che non solamente in ogni generale provincia propriamente partitamente dall'altri generali province si favella ma ancora in ciascuna provincia si favella diversamente e oltre a ciò e se stesse favelle così diverse alterando si vanno e mutando di giorno in giorno meravigliosa cosa è a sentire quanta variazione e oggi nella vorgarlingua pur solamente con la qual noi e gli altri italiani parliamo mi fermo perché il pensiero è lunghissimo ma volevo porre l'attenzione proprio su questa parola il punto è la variazione meravigliosa cosa è a sentire quanta variazione è oggi nella volgarlingua una variazione che riguarda appunto il mezzo cioè lingua parlata e lingua scritta riguarda però poi anche il tempo la lingua che parlo oggi la lingua che si parlerà domani lo spazio la lingua che parlo qui la lingua che si parla nel quartiere nella regione nella nazione vicina vicina alla mia contro cioè per rimediare a questo problema di questa continua variazione che comprende tutti gli aspetti e gli elementi dell'evoluzione linguistica cosa si può proporre qual è il rimedio dopo 300 anni di lingua volgare dice Bembo si non si vede ancora chi delle leggi e regole dello scrivere abbia scritto bastevolmente eppure è ciò cosa a cui dovrebbero i dotti uomini sopranoistati avere inteso conciossia cosa che altro non è lo scrivere che parlare pensatamente il qual parlare questo si andiò di più che egli e ad infinita moltitudini d'uomini ne va e lungamente può bastare allora è necessario avere una regola che fissi la lingua scritta in modo che essa possa durare nel tempo e nello spazio che possa essere un monumento aereo perennius come direbbe Orazio una testimonianza in grado di attraversare i secoli e le nazioni si tratta come vedete appunto di una specie di manuale della variazione linguistica e i due aspetti cioè la lingua che varia e la necessità di ridurla in regole sono messi proprio a contatto nel capitolo primo ai paragrafi 17 e 18 scusate libro primo capitoli 17 e 18 da un lato vedete viene riproposta la variazione linguistica che avviene la variazione della lingua esattamente come gli altri costumi e maniere del vivere umano siccome si cance vestire e il guerreggiare eccetera dice Bembo la lingua varia come i costumi degli esseri umani a confronto a contatto in contrapposizione per rimediare a questa situazione Bembo propone appunto la sua soluzione la lingua delle scritture giuliano non dè a quella del popolo accostarsi se non in quanto accostandovi non perde gravità non perde grandezza che altramente è la di scostare se ne deve dilungare quanto le basta mantenersi in vago e in gentile stato allora qual è il rimedio qual è la soluzione è quella di sottrarsi di appartarsi di discostarsi rispetto alla lingua del popolo in modo da mantenersi in vago e in gentile stato vedete questa operazione di astrazione di un modello che diventa un modello puro teorico e completamente ripulito dalle scorie del tempo e dell'uso e raccomandato proprio uno scostamento un allontanamento dalla lingua dell'uso che appunto si realizza tenendosi a una scrittura astratta rispetto alla contingenza e alla variazione ora questo è esattamente l'impalcatura concettuale tracciata dal De vulgari eloquenze di Dante i capitoli in particolare dedicati alla variazione lo ricordate benissimo sono il nove e il decimo il decimo riguarda la suddivisione delle varietà dell'italiano antico in quattordici varietà regionali principali il capitolo nove invece riguarda in modo più complesso la variazione attraverso lo spazio e il tempo in modo più introduttivo diciamo generale e vedete non mi fermo ma potrete sottolineare riprendendo il testo latino quante volte ricorre proprio la radice della variazione vedete variari o portet la lingua ha bisogno di variare questo tra l'altro il numero il punto 6 è proprio dove Dante dice che la lingua varia come le nostre cose ad esempio i costumi e le abitudini vedete proprio il passo ripreso dall'incipit delle prose cioè variari o portet e poi più in basso c'è proprio la parola variazione appunto quando parla del mutamento che si realizza in lunghissimo arco di tempo poi ancora sermo variatur varie varietur vedete bellissimi queste figure etimologiche varie varietur e varie variantur essa deve nella lingua dice Dante deve necessariamente mutare in vario modo come in vario modo mutano usi e costumi proprio perché appunto il se la lingua rimane all'arbitro del singolo deve essere variabile ma non può essere variabile se appunto aspira a superare le barriere dello spazio e del tempo così come è successo per la lingua latina che viene appunto citata nel paragrafo 11 non mi fermo perché sono pagine famosissime ma ci tenevo a farvi vedere questa sovrapposizione che si viene a creare direi una sovrapposizione quasi perfetta tra l'impianto concettuale del De Vulgari la variazione da un lato la stabilità dall'altra e l'incipit delle prose che poi promuove appunto questa prima grammatica poetica proprio come accade nel De Vulgari per il secondo libro che come sapete è in parte perduto il distacco che le prose raccomandano rispetto alla lingua dell'uso sembra riecheggiare da frequenti espressioni dantesche che designano il fondamentale gesto di distacco dal proprio volgare municipale da parte dei poeti che hanno optato per il volgare illustre se riandate ai capitoli 12 13 14 e 15 del primo libro troverete espressioni come a proprio vulgari divertisse cioè si è scostato ha cambiato strada proprio ha fatto una diversione lo diciamo ancora oggi in gergo automobilistico divertire ad materno ed ad guriale vulgare intendere patrium vulgare deseruit eccetera il de vulgari eloquenza sembra aver contribuito cioè lo dice Mirko Tavoni all'idea bambiana del discostarsi dagli idiomi parlati locali popolari incluso anche il fiorentino in nome della stabile unità contro la dissonante è caduca varietà e di fatto il de vulgari contribuisce a sancire l'egemonia del linguaggio lirico proprio perché è quello che può essere più regolato ricordate Dante che diceva in legame mosaico armonizzato la lingua della lirica è la lingua che può essere più pienamente completamente regolato dunque è quella che è prescelta quella che effettivamente fa la parte del leone nelle prose concludo sul terzo testo e il terzo personaggio che ho pensato di proporvi in questo breve scursus di questa mattina e che è Vincenzo Borghini allora siamo passati da Machiavelli il dialogo discorso intorno alla nostra lingua con appunto l'idea della naturalità della lingua della letteratura poi attraverso la rielaborazione delle prose con la sussunzione di questa idea di volgare naturale che deve però essere appunto rigidamente regolato e normato per sottrarsi alla variabilità proprio dell'uso e concludiamo questo percorso con un testo un personaggio che appunto vi vorrei un po' presentare come la sintesi un po' di queste posizioni si tratta di Vincenzo Borghini e dei suoi scritti su Dante Borghini non pubblicò questi scritti si trovano manoscritti per lo più a Firenze ma sono stati recentemente raccolti in un volume nel 2009 da Giuseppe Chierchi Borghini Benedettino braccio d'essere di Cosimo I nella Firenze Medicia della metà del Cinquecento abbandona la quiete dell'abbazia e degli studi classici quando appunto Cosimo lo nomina come direttore dell'ospedale degli Innocenti di Firenze e comincia ad affidargli compiti di sempre maggiore responsabilità a corte nella vita culturale della città appassionato di lettere greca e latine chiamato improvvisamente appunto al servizio del principe Borghini inizia uno studio appassionato anche se discontinuo della lingua volgare di cui l'unica opera organica che rimane alle stampe sono forse le annotazioni sul Decameron del 1573 annotazioni appunto a margine del lavoro di rassettatura dell'opera questa è la parola tecnica in uso all'epoca dopo che essa appunto era finita sotto gli inchiostri della censura in pieno clima della controriforma dunque Borghini è un intellettuale colto intelligente dedito alla politica culturale della corte e non ci supiamo dunque che scriva di Dante e che voglia difendere Dante dalle critiche di Bembo o meglio così si intitola uno dei suoi scritti che voglia salvare Bembo dalle accuse di aver giustamente criticato Dante Borghini tocca nei suoi appunti i due punti fondamentali che abbiamo visto finora cioè l'importanza della considerazione storica della lingua d'uso che è diversa variabile e secondo l'importanza della lingua della lirica come codice che più di ogni altro può discostarsi dalla dimensione della variabilità sono forse questi i due punti che la questione della lingua mette a fuoco in particolare nel Cinquecento dove la riflessione su Dante e le sue opere presta il suo fondamentale contributo vediamo ecco per concludere la difesa speciale contro a quello di che l'incolpa cioè Dante il Bembo e dichiarati alcuni luoghi dove parche lobbyasimi che non è anzi è un mostrare le differenze dell'età allora vedete Borghini nel lato di difendere Dante dalle critiche mostre dalle prose della volgarlingua nello stesso tempo però difende anche Bembo stesso Bembo non voleva criticare Dante dice Borghini ma mostrare le differenze dell'età cosa vuol dire cioè mostrare che in età diverse la lingua scritta era diversa Dante scrisse bene dice Borghini questa è la sintesi un po' del suo intervento Dante scrisse bene perché scrisse nella lingua dei suoi tempi anche se questa era diversa e Borghini lo ammette più rosa meno colta perché più antica rispetto all'attuale allora Dante scrisse bene e oggi ha ragione anche Bembo a trarre dalle opere degli antichi poeti quello che può servire a fondare la lingua della lirica moderna dunque sono salvati entrambi ecco questa è la soluzione di compromesso che diciamo un po' nel breve quadro che vi presento oggi conclude la presenza di Dante nella questione della lingua allora leggiamo questo breve passo e quanto questo sia vero cioè che Bembo volle mostrare le differenze tra le lingue delle diverse età quanto questo sia vero esso medesimo lo mostra nelle sue prose in un suo bellissimo discorso ove dichiara quanto fosse la rozzezza dei più antichi e quanto fin nella prima giunta fosse da Dante migliorata e quanto di mano in mano più quando andò più là con l'età e che il Petrarca e il Boccaccio che ancora più da quella antichità con gli anni si discostarono si discostassero a Zandio con la lingua conchiudendo che quei primi non potevano usare voci più vaghe le quali udite mai avevano riprende vedete proprio chiaramente il brano delle prose che abbiamo letto tra i primi quando appunto Bembo dice che Dante ha migliorato la lingua dei poeti che sono venuti prima di lui e così hanno fatto Petrarca e Boccaccio che vennero dopo Dante vedete c'è proprio un'idea della lingua come di un organismo che evolve nel tempo e un po' per volta appunto cresce matura migliora così quando Bembo riprende Dante per l'uso del congiuntivo in e il tipo avesse tu avesse al posto di avessi avesse è la desidenza etimologica contro quella moderna avessi dice appunto che Dante errò molte volte Bembo lo dice questo no? Dante errò molte volte perché scrisse avesse mentre avrebbe dovuto dire avessi Petrarca anche usa avesse ma lo usa una volta sola perciò Petrarca è meglio di Dante questo è il ragionamento di Bembo Borghini ribalta questo ragionamento non è vero dice che Petrarca peccò mancò nell'uso della lingua emendata meno di Dante perché Dante scriveva avesse perché questa era la forma in uso ai suoi tempi invece Petrarca scriveva avesse probabilmente perché l'aveva trovato nei testi antichi nella commedia magari e dunque andava contro l'uso dei suoi tempi che nel frattempo si era evoluto a avessi dunque in qualche modo Petrarca manca più di Dante anche se usa meno la forma avesse questo è quello che trovate appunto in questa citazione di questa slide ma conclude Borghini e qui manifesta proprio le sue doti salomoniche ma a dire il vero né il Petrarca e il Ro e Dante molto meno perché la lingua antica la quale in molte cose ritengono i poeti nella fine di questi verbi usa spesso indifferentemente le e li sto leggendo l'ultimo paragrafo della slide come anche esso Bembo avvertì in altre voci dunque in verità tante cose di quelle notate da Bembo come critica a Dante non solo sono giustificabili con l'età a quell'epoca si scriveva così vedete che è proprio un ragionamento di storia della lingua è meraviglioso non solo si scriveva così ma in più occorre tener presente che la lingua antica era anche ancora molto instabile dunque spesso fenomeni come le desinenze si prestavano a oscillazioni anche nello stesso autore a volte poteva essere usata la forma più antica a volte quella più moderna sono osservazioni che si ritrovano proprio negli studi di storia della lingua che facciamo oggi e dove appunto individuiamo l'oscillazione di questa desinenza tra Dante Petrarca e Boccaccio Borghini nell'età della norma dove tutto doveva essere rigidamente regolato intuisce invece che solo l'uso può determinare la frequenza e dunque anche l'ammissibilità di una certa forma o fenomeno in ogni caso anche se appunto Bembo non ha condotto considerazioni appunto di tipo storico-linguistico come invece Borghini fa e le fa in un modo davvero straordinario Borghini comunque scusa anche Bembo diremo non essere stata sua intenzione di dichiarare generalmente tutta la natura della lingua nostra ma insegnare in questo tempo parlare comporre scrivere o come i nostri vecchi diceano distinguendo la prosa dalla poesia dettare e trovare in esse elegantemente leggeramente e perfettamente questa è la conclusione di Borghini non importa se non ci sono ragionamenti di tipo storico-linguistico nelle prose perché l'obiettivo di Bembo era proprio dare una grammatica poetica e dunque Bembo ha svolto bene il suo compito pur se quella dimensione storico-linguistica rimane per Borghini molto importante e qui vedete lo capiamo proprio da questa ultima citazione perché Borghini usa riepiloga tutta la questione usando i due verbi tecnici della scrittura poetica che derivano dalle due grandi tradizioni delle origini il trovare trovatori siciliani e il dettare che sapete è il verbo proprio tecnico del dolce stil novo Dante come Bembo è riconosciuto maestro di poesia anche sul campo anche come poeta oltre che nel divulgare eloquenza questa nota tra lingua dell'uso e lingua della lirica mi pare si presti bene a suggellare la presenza di Dante nella questione della lingua del Cinquecento senza dimenticare che dagli studi filologici di Benedetto Varchi e di Vincenzo Borghini uscirà la prima edizione che si può chiamare edizione critica della commedia cioè un'edizione basata sulla collazione di più testimoni questa edizione sarà curata dagli accademici della Crusca e stampata proprio a ridosso della fine del secolo nel 1595 vi ringrazio per l'attenzione allora vi aspetto numerosi al seminario che concluderà le nostre lezioni